Dopo il successo del grande fratello VIP, i riflettori si accendono di nuovo per Giulia Salemi. Il suo salotto Salemi, il primo programma condotto interamente dall'influencer da oltre un milione e mezzo di follower, sarà disponibile in streaming dal 16 aprile. Le puntate saranno disponibili per sei settimane su Mediaset Play. Sarà un programma con il 100% di quaterosa, a nessun uomo sarà permesso l'ingresso nel salotto di Giulia. Le ospiti d'eccezione del programma saranno, infatti, alcune delle protagoniste più influenti del mondo dello spettacolo e dei social, da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro, da Daiane Mello a Gaia Zorzi. Le ospiti si affideranno alle capacità di make-up artist di Giulia Salemi che, tra le polveri colorate e le texture illuminanti, si rivelerà anche una preziosa complice e confidente. Di fronte all'iconico specchio, si alterneranno beauty tips, chicche di gossip, confidenze e opinioni inaspettate con l'obiettivo di stimolare un confronto costruttivo e scovare il proprio girl power. Salotto Salemi è nato su Instagram durante il lockdown, ora diventa un format più strutturato con una nuova identità e con una vera e propria veste scenografica. La chiacchierata tra amiche si svolgerà in un contesto intimo e accogliente giocato sulla declinazione di Tony Rosa con l'obiettivo di mettere a proprio agio la padrona di casa e le sue ospiti e permettendo, così, di regalare una versione no filter dei propri pensieri.